Nel passo che vedremo oggi dell'Iliade troviamo Patroclo che decide di entrare in battaglia con addosso le armi e l'armatura di Achille. Proprio prima di entrare in battaglia c'è un fatto che nei poemi omerici e in particolar modo nell'Iliade è piuttosto importante. Si tratta infatti della vestizione dell'eroe, cioè sono dei versi dedicati proprio alla descrizione di come l'eroe, in questo caso è Patroclo, si veste per prepararsi alla battaglia, quindi prende l'armatura, prende tutte le protezioni che servono e le varie armi. È quello che si dice un topos letterario, un luogo, topos in greco vuol dire luogo. Perché topos letterario? Perché è come un luogo fisso, uno dei luoghi fissi che in letteratura ritornano, cioè il topos dell'eroe che vince, cioè varie situazioni in cui abbiamo eroi che poi vincono, oppure il topos della moglie che perde il marito in battaglia, quello è il topos della moglie che perde l'eroe, il suo marito in battaglia. Che cosa definisce un topos? Il fatto che succeda più volte, cioè non basta che c'è un episodio in cui succede è topos, no, topos vuol dire che questo episodio simile si deve riproporre più volte per più personaggi. Noi, nella nostra Iliade, vediamo più volte, cioè noi no, non la leggiamo tutta, ma se vi mettete a leggervi tutta l'Iliade, il topos della vestizione dell'eroe la troverete più volte per più eroi, ok? Non solo per Patroclo. E' qualcosa che ritorna ed è una costante applicata ai vari eroi. Ecco perché possiamo parlare di topos letterario, perché si ripresenta più volte non solo all'interno di quest'opera dell'Iliade, ma anche in altre opere. Quando succede questo si parla di topoi al plurale letterari. Entriamo quindi nel vivo della nostra lezione di oggi. Abbiamo Patroclo che appunto si prepara prima di entrare in battaglia. Dove siamo? Siamo nel sedicesimo libro e oggi in particolare ci occuperemo dei versi che vanno dal 114 fino al 167. Allora, duello fra Ettore e Aiace si apre così. Ettore lo conosciamo bene ormai, Aiace chi è? Allora, Aiace è Aiace Telamonio, ossia è un Acheo che è appostato a difendere le navi degli Achei, perché Ettore poi arriverà e darà fuoco a tutte le navi dei Greci in modo tale che poi siano imbottigliati lì perché non hanno più il mezzo con cui scappare. Allora, come al solito prima leggiamo, poi facciamo la parafrasi e mi fermerò al punto fermo. Accostatosi Ettore colpì ad Aiace l'asta di Frassino con la sua grande spada sotto al puntale e la mozzò di netto. Aiace Telamonio a vuoto palleggiò nel pugno l'asta spuntata, mentre lontano da lui la punta di bronzo tintinnò a terra cadendo. Allora, allora abbiamo Ettore che è il soggetto. Ettore, dopo essersi avvicinato, potremmo parafrasare, ad Aiace, colpì l'asta di Frassino, quindi gli colpisce la sua lancia di Frassino, il Frassino è un legno di cui poi si parlerà. Con che cosa gliela colpisce la sua lancia? Con la propria spada. E dove gliela colpisce? Sotto al puntale, quindi sotto la punta. Sapete che l'asta è fatta dalla punta in cima e poi c'è tutta la parte in legno. Lui gliela taglia come subito sotto alla punta di metallo, così da lasciargli in mano semplicemente un bastone che sinceramente non può fare più di tanto male, ecco. Gli decapita come la lancia, il giavellotto, chiamatelo come volete. Gliela mozzò di netto, quindi gli taglia la punta al giavellotto. Aiace e telamonio, inutilmente, a questo punto perché gli è stata spuntata la lancia, la palleggia, appunto la lancia spuntata, la palleggia nella mano. Cosa vuol dire che la palleggia? Che la fa saltellare nella mano, sapete? Prima di tirare un oggetto lo agitate nella mano, oppure lo sollevate, ecco. Questo va inteso così il verbo palleggiare. E intanto cosa succede? Lontano da lui, la punta di bronzo, di che cosa? Chiaramente dell'asta, della lancia, tintinnò a terra cadendo. Guardate che è bellissima, questa immagine è molto descrittiva, eh. Sembra di essere davanti a uno schermo televisivo, sembra di vederla in un cinema. Vi immaginate proprio la punta metallica di questa lancia che cade e fa questo rumore, fa questo tintinnio cadendo a terra. È bellissima. Suona anche molto bene se la leggete. La punta di bronzo tintinnò a terra cadendo. Sentite com'è melodioso questo verso, specialmente tintinnò a terra cadendo. Sembra quasi di pronunciare il verso della caduta di questa punta della lancia. Riconobbe Aiace nella sua vigile mente e ne tremò. La mano degli dèi che Zeus al titonante stroncava i piani della sua battaglia e voleva il successo dei Teucri. Si ritrasse allora dai colpi. Allora, che cosa ci dice qui? Che Aiace riconobbe nella sua mente accesa, nella sua mente fervida, è comunque una persona intelligente, riconosce che cosa? La mano degli dèi, quindi riconosce che c'è stato un intervento divino. E ne tremò. Questo ne è un pronome, quindi è tremò di ciò. Tremò per questo e si spaventò di questo. Inoltre riconobbe che Zeus al titonante, Epiteto di Zeus, quindi che dall'alto tuona, rovinava i piani della battaglia degli Achei, oppure della sua battaglia contro Ettore, visto che stanno duellando loro due. E sempre che Zeus voleva il successo dei Teucri. Teucri è un altro modo di chiamare i Troiani. Si ritirò quindi dai colpi. E quelli scagliarono fuoco indomabile sulla rapida nave. Divampò subito una fiamma violenta. E quelli, cioè i Teucri, i Troiani, misero un fuoco indomabile, quindi appiccarono fuoco alla nave veloce, rapida qui a Epiteto di nave. Divampò subito una fiamma violenta. Scoppiò quindi un incendio che prese tutta la nave. E poi si allargerà alle altre. Ed ecco che entriamo nel vivo della fase della vestizione dell'eroe, cioè Patroclo. Così l'incendio avvolgeva la poppa. Ed ecco che Achille si rivolgeva a Patroclo, battendosi le cosce. Su Patroclo, stirpe divina, abile cavaliere. Vedo alle navi la furia del fuoco micidiale, che non distruggano la flotta, non venga meno la via della fuga. Vesti subito l'armi, ed io raccolgo l'esercito. Allora, qui abbiamo Achille che si rivolge al suo amico, barra più che amico, Patroclo. E che cosa gli dice? Allora, l'incendio intanto, di cui abbiamo parlato nei versi appena letti e parafrasati, stava prendendo tutta la poppa della nave, la poppa è la parte posteriore. E quindi Achille cosa fa? Si rivolge a Patroclo, battendosi le cosce. come per spronarlo. I greci avevano questi modi di fare che oggi magari faccio un po' fatica a capire. Per noi battersi le cosce non è che voglia dire molto. Sì, magari, quando immaginatevi il vostro allenatore seduto che per incitarvi a correre di più si batte le cosce per dire vai, vai, vai. Oppure, un altro modo di fare dei greci era, soprattutto delle donne greche, era battersi il petto in segno di disperazione. Ad esempio, quando muore un congiunto, è tipico di quando muore un familiare, le donne greche si strappano le vesti, si tirano i capelli e si battono il petto come tirandosi dei pugni al petto. Sono dei modi che oggi sono cambiati e non sono più molto in voga, ecco. Oggi è raro vedere uno che si batte le cosce per incitare qualcuno. Forza Patroclo, stirpe divina, chiaramente epiteto di Patroclo, cioè discendente da persone divine, non discendente degli dei. abile cavaliere, grande combattente. Vedo che il fuoco, micidiale, fortissimo, sta infuriando presso le navi. Fa in modo che non distruggano la flotta e che non venga meno la via della fuga e quindi che non ci manchi la possibilità di fuggire, perché è chiaro che se ti bruciano le navi ti viene meno, quindi ti sparisce ogni possibilità di scappare, perché non è più il mezzo di locomozione, quindi... Mettiti subito l'armatura e io intanto raduno l'esercito, chiaramente quello dei mirmidoni, cioè la parte dei sudditi, diciamo così, di Achille, quella parte degli Achei che veniva dalla zona in cui in Grecia governava Achille. Così diceva, e Patroclo s'armava di bronzo splendente. Così appunto gli aveva detto Achille, e Patroclo intanto si vestiva, ecco qui che inizia proprio la vestizione, di bronzo splendente. Bronzo, cosa sono le armi e l'armatura essenzialmente. Per prima cosa, intorno alle gambe, si mise le gambiere, belle, allacciate con fibbie d'argento. Poi si infilava sul petto la corazza, decorata, risplendente, delle acide veloce. Allora, qui inizia la vera e propria vestizione, perché inizia appunto dalle gambiere, che sono, diremmo oggi, dei parastinchi, quindi delle protezioni che si mettono davanti alle ossa inferiori della gamba, quindi davanti alla tibia, potremmo dire, e che cosa sono? Le gambiere sono un po' come quelle che oggi ancora portano alcuni sportivi, solo che mentre oggi appunto proteggono dalla caviglia, diremmo noi, comunque un po' sopra la caviglia, fino alla ginocchio, all'epoca dei greci, queste gambiere proseguivano anche più in alto del ginocchio, perché tanto la gamba per correre, per saltare, veniva piegata all'indietro, quando corri, diciamo, dal ginocchio in giù, la gamba va indietro, non avanti. Erano una parte molto vistosa delle armature greche. Infatti vengono definite belle. Quindi per prima cosa, davanti agli stinchi, si mette i parastinchi, le gambiere, che erano belle, e allacciate con fibri d'argento, erano preziose, perché ricordiamoci che comunque erano le armi di Achille, le armi di un eroe molto valoroso, e pertanto dovevano rendere onore alla grandezza di questo combattente. Più un eroe era bravo, più erano preziose le sue armi e la sua armatura. Poi, perché ricordiamoci che comunque era anche un re, Achille era il re dei Mermidoni. E poi cosa fa? Dopo le gambiere, dopo i parastinchi, si infila la corazza. Perché se la infila? Perché immaginatela un po' come un maglione, va indossata passando attraverso di essa con la testa, con il capo. Quindi se la infila dall'alto, si infila dall'alto la corazza, che copre tutto il busto davanti, dietro e ai lati, che anche questa ovviamente è impreziosita. È, come dice l'ultimo verso di questa slide, è decorata, è risplendente perché è di bronzo, quindi metallo, che riflette la luce, delle acide veloce. Che è le acide, vi direte voi? Eacide, come abbiamo visto, terminando in ide, è un patronimico, ok? Quindi ci dice di chi è figlio. Come il pelide, è Achille, perché è figlio di Peleo. Eacide è proprio Peleo, quindi il papà di Achille, perché è figlio di Eaco. Quindi abbiamo Eaco, che è il papà del papà di Achille, quindi il nonno di Achille. Suo figlio è Peleo, suo figlio è Achille. Quindi queste armi, queste armature, Achille le ha ereditate da suo padre, appunto, da Peleo, che è detto anche l'Eacide, in quanto figlio di Eaco. Quindi potremmo, quindi potremmo parafrasare del figlio di Eaco, oppure direttamente di Peleo veloce, perché comunque è il papà di Achille, che è detto appunto dal pie veloce. Si mise a tracolla la spada, freggiata di borchi ed argento, tutta di bronzo, e quindi lo scudo, grande e pesante. Sulla testa vigorosa mise l'elmo ben lavorato, con criniera di cavallo, e paurosamente la cresta ondeggiava sull'elmo. Qui prosegue la nostra vestizione dell'eroe. Abbiamo che, dopo appunto essersi messo le gambiere e la corazza, si mise la spada tutta di bronzo a tracolla, quindi se la mette a tracolla. Com'è questa spada? È anch'essa decorata con borchi ed argento, è in preziosità anche lei, e poi cosa fa? Prende lo scudo che è grande e pesante. Sulla testa imponente poggiò l'elmo ben lavorato, anche questo è fatto a mano, è decorato bene. Con che cosa? Con una criniera di cavallo. appunto un pennacchio per intimorire i nemici, infatti e paurosamente la cresta ondeggiava sull'elmo. Era proprio questo lo scopo del crine di cavallo sugli elmi, impaurire il nemico con questa cresta che ondeggiava. E la cresta di questo elmo ondeggiava tanto da impaurire i nemici. Prese infine due lanci robuste, adatte al suo pugno. Questo verso quasi non ha bisogno di parafrasi, la facciamo comunque. Infine raccolse due lance robuste, cioè forti, due aste pesanti, due lance imponenti, adatte al suo pugno. Quindi dalle dimensioni che più gli si confacevano, andavano bene per lui. del perfetto e acide soltanto la lancia non prese. Pesante, grande e robusta, nessun altro degli acai poteva muoverla, solo Achille era in grado di scuoterla. Frassino Pelio, che aveva dato a suo padre Chirone, presolo in vetta al Pelio perché fosse strage di eroi. Ecco, fate attenzione a questi versi. Cosa fa? Lui ha preso l'armatura, ha preso la spada e ha preso due lance. Non ha preso la lancia del papà di Achille. E perché non l'ha presa? Perché era troppo per lui, era troppo pesante. Era così pesante, così difficile da manovrare che solo Achille riusciva. Quindi del perfetto Pelio lasciò a terra solamente la lancia, l'asta, il giavellotto che era pesante, grande e robusta. Era imponente. Infatti nessun altro greco riusciva a maneggiarla solamente Achille era in grado di sollevarla e di scagliarla. Frassino Pelio, che cosa vuol dire Frassino Pelio? Vuol dire, allora, Frassino, abbiamo visto prima, è un legno. Pelio è aggettivo relativo al monte Pelio, quindi è un aggettivo che corrisponde al nome cui si riferisce. Vuol dire come Frassino del monte Pelio, quindi che appunto viene viene quindi dal monte Pelio in Tessalia ed è un monte vicino all'Olimpo, al famoso monte Olimpo di Mora degli Dei. Quindi, ora che ho spiegato, vediamo la parafrasi, legno del monte Pelio, fatta di legno del monte Pelio e questo legno chi è che gliel'aveva dato al papà di Achille? che Chirone l'aveva preso appunto in cima al monte Pelio e l'aveva dato a suo padre, quindi alle Acide o a Peleo che voi vogliate dire, perché ne facesse strage di eroi, perché lo usasse in battaglia contro i nemici. A questo punto vi chiederete chi è Chirone però. Chirone era un'altra figura mitologica, era un centauro, un centauro quindi vuol dire metà uomo metà cavallo col busto d'uomo e le zampe di cavallo. Era un po' il maestro il protettore di Peleo e quindi di Achille che era suo figlio e guarda caso aveva come dimora proprio il monte Pelio viveva su questo monte. Ora vediamo che entra in scena la nuova figura l'auriga ecco l'auriga è forse una parola che non conoscete era chi si prendeva cura dei cavalli nel mondo antico o anche chi guidava il carro. Di preparare i cavalli al più presto dette ordine ad Automedonte che più di ogni altro stimava dopo Achille massacratore era per lui il più fidato in battaglia il più pronto ai suoi ordini. Allora qua c'è il verbo ma non c'è il soggetto chi è che dà l'ordine ad Automedonte è chiaramente Patroclo stiamo parlando di Patroclo è lui che fa queste operazioni. Patroclo dette ordine di preparare i cavalli in pochissimo tempo ad Automedonte quindi dall'ordine ad Automedonte chi è Automedonte? Automedonte è l'auriga quindi colui che si occupa dei cavalli di Achille Automedonte appunto che più di ogni altro stimava da Achille quindi a Patroclo aveva molta stima di Automedonte diciamo che dopo Achille che stimava tantissimo c'era per lui Automedonte era per lui la persona di cui si fidava di più durante una battaglia ed era anche quello che era più attento ai suoi ordini dunque Automedonte gli aggiogò i cavalli veloci Xanto e Balio che volavano insieme a turbini generati a Zefiro il vento dall'arpia podarge che razzolava sul prato lungo la corrente dell'oceano attenzione a questi versi perché sono un po' oscuri non sono chiarissimi fin da subito attenzione dunque Automedonte preparò mise sotto le briglie del carro i cavalli veloci veloci epiteto dei cavalli perché sono veloci chiaramente perché sono di Achille al piede veloce i cavalli come si chiamano? Xanto e Balio attenzione perché questi due cavalli sono immortali mentre vedremo dopo Pedaso è il terzo cavallo che invece poveretto sarà mortale Xanto e Balio che appunto volavano insieme ai turbini erano talmente veloci che volavano insieme ai turbini i turbini cosa sono? sono i movimenti del vento quindi erano velocissimi infatti erano stati generati per Zefiro il vento dall'arpia podarge ai tempi quando razzolava sul prato su un prato lungo la corrente dell'oceano l'oceano si era una divinità era un titano quello che trovate rappresentato nella fontana di Trevia Roma ma è anche si chiamava con lo stesso nome il suo fiume quindi lungo un prato vicino al fiume oceano ora perché si dice razzolare di un'arpia? perché razzolare è un verbo tipico delle galline quando la gallina cammina sul prato pascola sul prato si dice che razzola e dopo un verbo riferito alle galline perché l'arpia è una figura mitologica composta metà da donna e metà da uccello erano delle figure mostruose tant'è che oggi è ancora usato arpia come un insulto per una donna che è cattiva o brutta ecco perché razzolava perché aveva le zampe di volatile ok podarge ancora una volta vuol dire in greco piede veloce anche questa arpia era brava nella corsa si vede appunto razzolava bene quindi pascolava velocemente su questo prato lungo il fiume oceano legava poi in aggiunta il bellissimo pedaso conquistato da achille al saccheggio della città di etione che sebbene mortale seguiva cavalli immortali questi tre versi sono piuttosto semplici sempre automedonte oltre in aggiunta a xanto e balio legava anche quindi preparava anche il bellissimo cavallo pedaso che era stato conquistato da achille quando quando aveva fatto il saccheggio della città di etione etione chi è? etione è il papà di andromaca la moglie di ettore la città di etione infatti era tebe nella regione della troade quindi vicino a troia erano sempre nell'attuale turchia nell'anatolia nella penisola dell'anatolia pedaso il quale appunto questo che si riferisce a pedaso non è etione attenti questo cavallo che nonostante fosse mortale seguiva perché era legato insieme ai due cavalli immortali correva insieme a loro cioè xanto e balio intanto achille qua e là per le tende armava tutti i mirmidoni simili a lupi feroci nel cui petto la furia irrefrenabile che stanno sbranando un grosso cervo dalle corna ramose dopo averlo preso tra i monti tutti col muso sporco di sangue freniamoci qui un attimo intanto cosa succede mentre abbiamo patroclo che si prepara e ha dato ordine ad automedonte di preparare i cavalli quindi abbiamo dal lato patroclo che si veste c'è la vestizione eroe dall'altro automedonte che prepara i cavalli intanto achille anche lui si dà da fare cosa fa? deve appunto come aveva promesso incitare tutti i mirmidoni a combattere insieme a patroclo intanto achille vagando per le tende armava quindi preparava la battaglia tutti i mirmidoni i suoi sudditi perché achille era re dei mirmidoni ecco qui inizia una similitudine che è molto suggestiva e soprattutto ricordatevi che la similitudine nell'ileade è una delle figure retoriche più diffuse infatti qui c'è una similitudine come vi ho messo nel titolo della slide i mirmidoni quindi i guerrieri di achille vengono paragonati a dei lupi come dei lupi feroci nel cui petto batte una furia che non si può frenare e che stanno sbranando un grosso cervo dalle corna ramose epiteto perché le corna del cervo sono piuttosto ramificate dopo che l'hanno catturato dopo che l'hanno cacciato tra i monti come sono questi lupi? tutti col muso sporco di sangue perché stanno mangiando la carcassa di questo cervo andiamo avanti a leggere poi scendono in branco lungo una fonte di scura corrente a lambire l'acqua nera con le loro lingue sottili a fiore dell'onda rigurgitando un fiotto di sangue anche se il ventre è pesante in loro l'animo è intrepido appunto dopo che l'hanno mangiato cosa fanno? scendono in branco tutti insieme lungo una ruscello lungo un torrente lungo un fiume per andare a bere a toccare l'acqua nera perché è notte anche l'oscura corrente perché è notte con le loro lingue sottili perché la lingua dei lupi è molto sottile non è come la nostra a fiore dell'onda quindi appena appena sfiorano con la loro lingua la superficie dell'acqua rigurgitando un fiotto di sangue perché cosa fanno? hanno appena mangiato la carcassa avevano il muso sporco di sangue appena toccano col muso l'acqua la sporcano appunto con un fiotto di sangue con un getto come di sangue il getto è della corrente anche se il ventre è pesante quindi anche se hanno la pancia piena perché hanno mangiato in loro l'animo è intrepido loro sono ancora vigili sono attivi sono appunto sono attenti non hanno paura di niente questo significa intrepido vediamo gli ultimi quattro versi in questo modo condottieri e governanti dei mirmidoni accorrevano intorno al valente scudiero del rapido e acide e lo stesso Achille bellicoso era fra loro ad incitare i cavalli e gli uomini armati di scudo in questo modo quindi come i lupi che hanno sbranato e si muovono tutti in branco per andare a bere similmente a loro condottieri e governanti quindi comandanti e nobili dei mirmidoni accorrevano intorno al valente scudiero del rapido e acide quindi arrivavano intorno ad aiutare a entrare in battaglia con lui di chi il valente scudiero del rapido e acide è patroclo e lo stesso Achille voglioso di guerra come abbiamo detto all'inizio dell'Iliade anche lui era fra loro era lì a fare dato che non combotteva a incitare i cavalli quindi a daizzare i cavalli a farli correre ma anche gli uomini armati di scudo ma anche i combattenti degli Akei abbiamo visto questo passo dell'Iliade in cui c'è un classico un topos letterario come la vestizione dell'eroe per questa volta è tutto ci vediamo alla prossima grazie a tutti